Esiste un'app per concentrarsi senza lo smartphone, si chiama Forest, potrai impostare l'inutilizzo del telefono dai 10 ai 120 minuti, potrai scegliere una pianta e nel tempo che tu non utilizza il telefono la pianta crescerà, è la funzione più bella di quest'app, che arrivato a un certo punteggio potrai veramente piantare un albero, Forest ha deciso di investire anche nel mondo reale, quindi che vuol dire, se l'utente raggiunge un certo punteggio, potrà decidere veramente di piantare un albero in una zona da loro prefissata. Questa è l'app, ecco qua, questo è quello che apparirà all'apertura dell'app. E qui andiamo a selezionare l'albero. Eccoli qua. Se il video ti è piaciuto metti mi piace e condividi.